Le entità artistiche di grande valore, la chiesa, un luogo dove c'è una concentrazione di arte meravigliosa e un talento contemporaneo che è il nostro Perri. Un connubio d'arte trapassato e modernità fra varie forme artistiche che si esprimono e si guardano, gli affreschi della chiesa di Sant'Antonio che incontrano le forme racu dei volti femminili realizzati da Perri Bianchini che a loro volta si trasformano in quadri e litografie ed una di queste diventa icona e simbolo di un'etichetta di vino rosso prodotto dall'artista, morbido, corposo, delicato ed aspro come solo una donna sa essere. Intitolata Il Bacio e c'è questo volto di donna con questa espressione di godimento che Perri ha deciso di usare per un altro suo prodotto artistico che è il vino rosso che lui in bottiglia l'ha chiamato Il Bacio anch'esso e ha usato uno slogan vino dal cuore caldo proprio come se stesse parlando di una donna ed entrambi infatti sono due opere d'arte che vanno curate, amate, vanno lentamente degustate il vino come una donna tinebria. La mostra di Perri Bianchini ospitata a Breno fino al 30 novembre non è arte fine a se stessa vuole essere infatti anche un momento di riflessione sull'identità femminile, i diritti e i sentimenti dell'emisfero femminile. Risposizione al patrocinio della comunità montana, del distretto culturale, del comune, della proloco di Breno, del comune di Darfo e della commissione pari opportunità. La mostra sarà aperta ogni giorno dalle 9 alle 19, ci saranno anche eventi collaterali di presentazione dell'arte di Perri che durante l'apertura autograferà alcune litografie per raccogliere fondi per le associazioni che si occupano di donne in difficoltà. Oltretutto, essendo l'installazione delle sculture lungo tutto il perimetro dell'ambiente della chiesa, durante questo mese e mezzo ci sono in concomitanza altre iniziative culturali e l'artista Perri ha colto di buon grado l'idea di condividere lo spazio con varie iniziative culturali.